amiche e amici tutti oggi vi presento il brano numero 9 è un esperimento molto interessante perché mi metto nei panni di uno dei più grandi artisti della storia della musica davvero uno dei più grandi bach joan sebastian bach conoscete vero molti lo conoscono quasi tutti lo conoscono per la famosa fuga di bacca toccata e fuga di bacca è un autore che io amo e ho sempre amato fin da bambino perché probabilmente è il padre è il vero padre della musica non vi nascondo che anche la musica contemporanea una musica moderna prende spunto da lui e io amo interpretare bacca più che interpretare imitare più corretto e quindi faccio spesso degli esperimenti soprattutto improvviso con lo spirito di bacca e ho fatto questo brano e l'ho chiamato appunto back to bacca ritorno a bacca in realtà l'ho improvvisato quando l'ho registrato quindi ogni volta che lo sono non è mai uguale ma comunque che me ne fa così e poi continua tra l'altro ho messo dei cambi tonalità che non si usavano nel settecento e io invece ce li ho messi perché siamo un bacca contemporaneo come inventato io è un nuovo bacca però è molto divertente si ascolta volentieri è un tuffo nel passato ma secondo me è molto presente nonostante sia con dei richiami fortemente nel passato back to back dovete ascoltarlo come vi ricordo come sempre www.il pianista fuori posto punto it lo trovate subito in questa compilation giorno nuovo e si scarica facilmente e soprattutto si ascolta facilmente ciao ragazzi alla prossima